Una giornata da ricordare con l'azienda Le Rose, siamo a porto di questo mezzo potentissimo come al solito, stiamo scendendo dalla strada che va da Santa Sofia del Vino in località Ferramonti di Tarsia da cui poi ci avvieremo sulla A3, tra l'azienda Le Rose, siamo partiti dallo scavo di San Marco per una breve visita in località Zirimpa, dalla Zirimpa ci siamo trovati in località, zona industriale di Pisignano, da Pisignano ci siamo trovati in località Acri, da Acri ci siamo trovati in zona Sant'Evento e Polaro, Sant'Evento e Polaro e stiamo adesso per uscire a Ferramonti da questa strada, sono tanti dettagli di questo grande mezzo, questo fiorino per gli E3, oggi alla guida abbiamo il signor Le Rose che ci ha direziato con la sua guida super precisa, tra l'altro che il signor Cannizzaro che quando guida sempre che abbia, come dico io, un vuoto alla guida, il signor Domenico Le Rose è capace di tagliare anche i biti in quarta venti all'ora con questo fiorino, questo sarà un altro dei grandi filmati che andranno a finire sul canale di Teneradio Cimpiale Stereo, per la gioia che ci seguono, che mi pare aumentano sempre più e ambito soprattutto la regia curata come sempre da Sant'Evento e Polaro, da cui oggi è stata affidata la regia delle aziende, noi avevamo già fatto più lì la telefonata per controllare dove eravamo, ma sappiamo bene che siamo dovrebbero arrivare sempre a voltezza della situazione, guardate gli stossoni che mi tormentano, ma comunque stiamo per arrivare, abbiamo venuto un coordinato delle montagne che ci sono adesso, una giornata abbastanza serena, diciamo, la quale dovrebbe essere ancora bella giornata, stiamo qua sui Ferrabò, stiamo con una squadra di Teneradio Cimpiale Stereo, eh?